Noi giorni che ho avuto problemi con l'audio ho ricevuto il nuovo microfono che mi ha consigliato Chris speriamo che funziona stavo mangiando facciamo un veloce unboxing non dalla lavorare mi sono aspettato microfono da attaccare questa è il terzo tentativo che faccio per l'iPhone vediamo se riusciamo semplice semplice lui ce l'ha e lo usa quindi mi sono fatto dare il link da lui è un investito questi 50 50 dollari again sperando che non capiti più il disastro che è successo questa mattina che tra l'altro è stato simpaticissimo perché ci sono stati dei bellissimi commenti mi ha fatto comunque un po arrabbiare per questo errore che ho fatto ma mi ha fatto anche sorridere per i messaggi come si apre qua bellino e voilà qua c'è il microfono questo invece credo che sia quello che va collegato all'iPhone che è il ricevitore qua c'è il microfono con il trasmettitore questo letto che si doveva girare in teoria poi devo studiare come si fa e qua per ricaricare bene tutto qua vado a lavorare eccoci qua dopo il lavoro mi sono trasferito in un parco fa un po freddo però comunque si sta bene c'è ancora un po di luce ormai le giornate si sono allungate se non sapete dove sta Plainview sta a 30 minuti dal cambio dell'ora quindi siamo proprio a ovest 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 del fuso orario quindi le giornate sono lunghe 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 rispetto a quello che è magari in Alabama o in Mississippi tra l'altro tra due settimane avrebbe cambiato anche l'ora quindi bellissimo si torna avere tanta luce sto registrando con l'iPhone vecchio ecco qua iPhone 13 mini quello che uso perché oggi nel giorno dell'uscita dal del video con i problemi dell'audio finalmente speriamo grazie a Chris Galbiati andate a vedere il canale sempre lo metto qua nei commenti mi ha suggerito questo microfono per l'iPhone 13 lui lo usa si trova bene adesso lo provo usare anch'io ho provato io anche un altro microfono questo costa poco meno di 50 dollari l'altro costa più di 200 dollari quello di 200 dollari però non riesco a connetterlo all'iPhone hanno provato tutti i modi ho guardato anche su YouTube adattatori cavetti ho provato di tutto e non sono mai riuscito a connetterlo non so se io sono probabilmente io sono un po così non bravissimo in tecnologia niente questo qua è semplice questo è il ricevitore questo è il microfono con il trasmettitore qui c'è la presa usb c 1 e 2 per caricarlo dicono che c'è a quattro ore di autonomia io l'ho aperto e non l'ho caricato questo semplicemente si inserisce nell'iPhone qui c'è un bottoncino basta schiacciarlo luce verde luce verde c'è non so se si vede comunque gli garantisco che c'è poi qua c'è la molletta che è cosa qui non mi piace molto sta molletta perché è un po piccola dove fa la presa qua dove fa la presa è un po piccolo quindi noi adesso lo mettiamo qua come sto bene mettiamo video adesso giriamo vediamo se funziona facciamo una prova adesso switcho switcho vedete questo schiaccio ok e mi sono sovrapposto mi sentite mi sentite mi sentite come funziona come funziona penso che si sente perché comunque l'avevo già provato ridere da solo però non l'avevo già provato in fabbrica e funzionava adesso vediamo se funziona se no devo mettere emilio fede che figura di merda tanto passa un aereo fantastico è bello perché mi diverto anche anche da solo e mi sentite mi sentite mi sentite come funziona come funziona penso che si sente perché comunque l'avevo già provato adesso voglio fare una prova a distanza mi provo a allontanare vedere fino a dove prende dice 20 30 metri contiamo 20 passi vediamo se funziona test numero 3 ma li ho cancellati gli altri due peccato se non potevo fare test 1 test 2 test 3 non funziona sto microfono non funziona sto cercando di fare la prova a distanza qui mi dice la luce verde l'aspetto e guardo sullo schermo sullo schermo non mi dice niente adesso provo a camminare 20 passi prima e 30 passi dopo per vedere se si sente questo audio questo giovedì per l'audio e nero esce il video senza senza audio microfono anche questo qua faccio fatica a farlo funzionare sull'iphone 13 mini non so più che pesci prendere si dice non so come se c'è un detto no comunque e noi torniamo a noi contiamo 20 passi 1 2 3 4 19 20 siamo circa 20 metri qua dal telefono tanto cammino anche così vediamo se l'audio disturbato sempre se lo sta registrando la luce è sempre verde e noi facciamo 10 passi in più 21 29 30 qui siamo intorno ai 30 metri 28 30 metri camminiamo vediamo funziona speriamo di sì questo test mi serve per sapere a che distanza mi posso spostare dal telefono o diciamo dal recevitore e poi raccontarvi che cosa vedo che cosa sto facendo per essere sicuro che l'audio funziona adesso torno al telefono e faccio il riguardo per l'ennesima volta se se questo audio funziona perché devo scendere perché non funziona mai finalmente funziona funziona ho scoperto che ho provato a girare di 180 gradi magari o non era inserito bene il ricevitore non prendeva infatti ho notato che se il ricevitore con l'aggeggino che ha attaccato al telefono non è messo bene il l'iphone registra col suo microfono e io se riguardo il video posso sentire in questo caso che sto registrando con questo microfono qua se io adesso stop vado a vedere il video non c'è l'audio ma devo togliere il trasmettere il ricevitore scusate ma adesso veniamo a cosa è successo giovedì scorso col video di giovedì scorso perché qualcuno nei commenti mi ha scritto anche malato del pollo perché dice che ovviamente le prima cosa che ti insegnano nei corsi prima di postare un video o prima di dire che il video è finito e di riguardarlo io vi assicuro che un mio video prima di dire che è finito lo guardo almeno tre volte due o tre volte sempre dall'inizio alla fine problema che io fino a giovedì fino a oggi anzi oggi giovedì lo guardavo in final cut prima dell'esportazione perché lo guardavo e facevo delle piccole modifiche se dovevo fare delle modifiche sull'audio sui tagli per renderlo più fluido e armonioso cosa è successo dopo di che io esporto il video una volta che esportato non lo riguardo non lo riguardavo tutto adesso lo guardo tutto lo facevo partire e se partiva e sentivo l'audio e per me era buono e lo caricavo su youtube questo video qua io l'ho esportato l'ho fatto partire l'audio si sentiva come avete visto per i primi 5 10 secondi quindi l'ho dato buono e l'ho caricato su youtube il problema è che dopo sono andato a rivedere il video che mi sono salvato sull'hard disk e aveva lo stesso problema quindi c'è stato un problema di esportazione da final cut e questo è stato il grosso problema e purtroppo non c'è stato l'audio la cosa importante di quel video che avevo detto era per l'ispezione statale che avevo fatto l'avevo pagata 7 dollari la cosa curiosa è che praticamente mi hanno chiesto di che anno era la macchina che cosa era il tubo sopra il tetto che la doccia e mi hanno detto molto bella 10 minuti 7 dollari ispezione passata non hanno guardato niente mi scuso ancora per l'inconveniente adesso vediamo con questo microfono se riusciamo a migliorare l'audio perché per me oltre la fotografia le immagini è importante anche l'audio perché veramente voglio darvi un risultato un bel risultato non voglio farvi trascorrere dieci minuti di relax e curiosità scusate stavo guardando che sta arrivando Plainview Bulldogs un camion non riesco a capire se è quello del carcere o se è quello della scuola perché è di color bianco solitamente bianco sono il carcere e invece quelli gialli come sapete sono gli scuolabus parentesi anzi adesso vado a vedere da vicino magari ve lo faccio vedere noi ci vediamo domani con un video particolare diverso vi racconterò chi sono i miei youtuber preferiti non youtuber preferiti rifraso rifraso chi sono i youtuber che sto seguendo in questo momento escludendo ovviamente gli amici quindi gente che ho contato telefonicamente messaggi così sono esclusi da questa lista sono cinque canali che seguo che non conosco personalmente non ho mai scambiato neanche un singolo messaggio quindi vi farò una classifica di questi cinque canali youtube tutti italiani io adesso vado anzi vi porto a vedere che cos'è quell'autobus bianco se non scappa e noi ci vediamo domani da Plainview Texas è tutto passo e chiudo ciao 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 ciao